La nascita di un prodotto ClipHacky parte da un'analisi profonda di mercato e con la collaborazione di persone esterne a ClipHacky, ma anche interne. Quindi parliamo di lighting designer, quindi tenendo a mente feedback di lighting designer, ma anche esigenze delle rental company, quindi degli utilizzatori finali. Noi abbiamo un ufficio innovazione internamente a ClipHacky che sviluppa nuove tecnologie o comunque cerca nuove tecnologie sul mercato anche attraverso mercati differenti rispetto al nostro, partendo da un discorso di materiali per esempio, oppure di engine. Possiamo fare l'esempio dello stilos, quindi dello sviluppo dell'engine RGB laser, dove siamo gli unici sul mercato in questo momento. Quindi diciamo una collaborazione a 360 gradi tra esterno, mondo esterno, quindi cliente e il mondo interno, quindi la parte della nostra ricerca e sviluppo. Abbiamo dei prodotti che possono sembrare dei prodotti molto semplici, tipo la Roll MP, che è stato sviluppato recentemente, immesso sul mercato un annetto fa, ma la parte diciamo molto importante è il fatto che abbiamo ridotto le dimensioni, il peso, quindi abbiamo lavorato molto sulla parte di micromeccanica, sulla parte di materiali. Possiamo parlare di una Volero Wave, dove abbiamo immesso degli effetti completamente nuovi, quindi non agiamo solamente su un discorso di tecnologia, di innovazione a livello di tecnologia, ma anche a livello di effettistica e di performance. Come azienda il nostro campo applicativo è il teatro. Ci siamo avvicinati ai prodotti Claypaki dopo aver visto un po' quello che offriva, offrirono le tecnologie, in un momento in cui c'è stato un cambio proprio anche generazionale, quindi tra tecnologie diciamo così classiche, quindi a filamento e tecnologie LED. I prodotti che noi utilizziamo per la maggior parte sono appunto i mini B, che sono estremamente versatili e riusciamo ad accontentare un po' tutti, insieme poi agli AXCOR, quindi ai profilatori, le tambora e con questi apparecchi riusciamo a avere sempre una coerenza sulla scena, specialmente in una rappresentazione teatrale in cui l'attenzione è in palcoscenico e a quello che ci gira intorno. Prima eravamo clienti di altre aziende, poi col tempo ci siamo accorti che avevamo la necessità di fare la scelta di prodotti più qualitativamente elevati. Siamo possessori di Claypaki Sharpie Plus, li utilizziamo principalmente nel settore dei concerti, quindi live. Poi abbiamo i mini B, anche essi vengono usati principalmente nel settore dei concerti, anche in moda si possono utilizzare con tranquillità. E poi abbiamo i mini B, che è un prodotto molto piccolo ma molto efficace e che lo utilizziamo tanto in teatro per la sua versatilità. Tutti questi prodotti sono fantastici perché hanno dei colori magnifici e posso dire che la scelta è stata giusta. In ogni caso rimanete sintonizzati con Claypaki perché sicuramente vedrete delle belle sorprese anche nei prossimi mesi.